da sanremo mi trovo con giusi ferreri ciao giusi ciao che bello ritrovarti grazie guarda anche per me tra l'altro preoccupatissima dopo averti visto alle prove con questo raffreddore terribile ma adesso come stai ma adesso meglio ancora un po di raffreddore c'è però l'importante è che sia tornata la voce è la cosa più importante insomma dai ci voleva è stato meglio trattenermi quel giorno non avrei dato una buona resa con quel raffreddore così forte ed era meglio comunque preservarla perché poi si rischia di fare più danni quando non si è in piena salute con degli sforzi eccessivi mi sono tolta il peso dai andata adesso sono più serena la prima serata è fatta dimmi se la canzone più votata è quella che avresti votato e scelto anche tu sì era quello che in realtà desideravo tantissimo è vero che in questi casi insomma bisogna amare entrambe le canzoni però diciamo che per me visto che ero ferma da diverso tempo sapevo che il brano che passava in questa situazione sarebbe stato poi la prepista del mio nuovo album e ci tenevo che fosse una canzone da significato più profondo e che avesse delle atmosfere più intense per cui bene diversi ascoltatori hanno notato che hai cambiato un po il modo di interpretare le canzoni un po il modo di cantare è una scelta voluta sì in realtà il timbro anche più sano perché negli ultimi anni un po mi era un po costretta a trascinare delle varie problematiche che mi avevano iscurito parecchio il timbro e anche c'è da dire che quando si canta sempre 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 sfugono un po i propri difetti nel momento di pausa ho iniziato a concentrarmi anche su quello che facevo vocalmente fino a che ho detto dovrei andare a smorzare un po di caratteristiche un po troppo esplicite e ho voluto fare un lavoro più sulla pulizia vocale confrontandomi anche con una persona professionista una cosa che è venuta fuori sia con Danila Satragno che è una bravissima vocal coach anche dall'esperienza che ho vissuto a Los Angeles con Linda Perry che è un mio forte punto di riferimento e l'obiettivo era quello appunto di poter cantare con una voce un po più lineare rispetto a diversi giochetti di colori di timbri che utilizzavo negli anni passati che ti caratterizzavano però forse non valorizzavano al meglio la tua voce che sembra davvero più alta più pulita addirittura più bella è più sana è più sana cerco di curarla il più possibile infatti fosse stato un altro momento mi sarei lasciata andare se fosse stato in periodi passati anche l'altro giorno che non stavo in salute potrei ammettere di aver tentato di cantare ugualmente nonostante in quelle condizioni ma poi alla fine si rischia di far danni ok